Da Praiano a Sapri, passando per Pietri sul mare, Salerno, Ponte Cagnano, Faiano, Battipaglia, Eboli, Capace e Agropoli. In questi comuni contemporaneamente il prossimo 2 settembre farà tappa cura la tua spiaggia all'iniziativa promossa dal meetup della provincia di Salerno e dedicata a puntare l'attenzione sulle necessità di migliorare lo stato delle spiagge libere in provincia di Salerno. Non solo rifiuti ma anche accessibilità alle persone disabili, piste ciclabili e tutto quanto può mettere le spiagge a misura di cittadino. Partita con un'iniziativa simbolica sulla spiaggia dove un tempo si arenò la nave Yasmina, la manifestazione che muove volontari e attivisti del Movimento 5 Stelle ma anche cittadini bipartisan che hanno a cuore la salute del mare e delle spiagge ha visto quest'anno diversi interventi sulle spiagge salernitane dove il Movimento 5 Stelle si è fatto promotore anche di una campagna contro l'abuso di plastica. Domenica infatti 2 settembre saremo sulle spiagge della provincia di Salerno da Praiano a Sapri per l'iniziativa cura una spiaggia. È un'iniziativa che è partita già un anno fa con il meetup di Salerno, con gli attivisti del meetup di Salerno. A differenza di Io sono plastic free, l'iniziativa cura una spiaggia è volta non solo a sensibilizzare la cura della spiaggia ma anche a sensibilizzare l'amministrazione ad essere attenta a queste spiagge liberi, liberi che mancano di servizi efficaci quali la raccolta differenziata, servizi igienici, accesso ai diversamente abili e anche ai trasporti. Quest'iniziativa è proprio in linea con le scelte politiche del Ministro Costa. Noi sappiamo che da quando si è insediato ha lanciato un hashtag Io sono un ambiente proprio perché la cura del territorio e dell'ambiente è molto cara al Movimento 5 Stelle. Noi vi aspettiamo tutti quanti, siamo lieti di ospitarvi tutti all'iniziativa per quanto riguarda soprattutto i cittadini perché la partecipazione attiva sul territorio relativa all'ambiente è molto importante. Sarà una bellissima giornata, non solo all'insegna del divertimento ma anche della cura dell'ambiente. Grazie. Cerca e si lavora anche su un altro fronte quello di regolamentare l'accesso alle spiagge. Anche a Salerno c'è stato questo problema, quest'estate è sollevato da più comitati. Più spiagge libere, più accesso a chi non può permettersi un abbonamento o di pagare un ombrellone. Su questo ci lavoreremo tanto sicuramente. Grazie. L'obiettivo di curare una spiaggia è quello di sensibilizzare la cittadinanza ma soprattutto l'amministrazione comunale rispetto all'interesse e l'importanza delle spiagge libere del nostro territorio, la cultura dell'ambiente e la possibilità di garantire ai cittadini della provincia salernitana una spiaggia libera degna di questo nome, una spiaggia libera che possa avere dei servizi, la possibilità di raggiungere le spiagge anche con i mezzi pubblici, anche con le biciclette, quindi le piste ciclabili, l'igiene soprattutto e la sicurezza per quanto riguarda gli accessi, anche per le persone con disabilità motoria, la possibilità di gettare i rifiuti in contenitori per la raccolta differenziata, le docce pubbliche, quindi tanti interessi per cercare di riportare le spiagge libere ad una condizione dignitosa per la nostra cittadinanza. Cosa più strana che avete trovato sulle spiagge salernitane? Allora, rifiuti ce ne sono tantissimi, quindi questa è la cosa che sicuramente ci colpisce, rifiuti di ogni sorta, a partire da materiale ferroso, da componenti che possono caratterizzare anche rischi per i bagnanti, fino ad arrivare alle classiche siringhe, che in passato si trovavano tantissime, oggi fortunatamente sono di meno, però noi pensiamo che un'azione civica di ripuliture delle spiagge, laddove l'amministrazione comunale è latente da questo punto di vista, sia un esempio utile per le persone perché le cose cambiano con l'esempio e non con le opinioni, non con la propaganda elettorale.